Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 13 maggio. Mi scuso, ieri, come spesso succede il martedì mattina, sono talmente rintronato dopo Quarta Repubblica che talvolta mi prendo una giornata di libertà. Anche se, voglio dire, quello che dovevamo dire l'abbiamo detto nel giorno prima di Quarta Repubblica. Anche oggi, leggendo i giornali, tutto sommato vedrete che ce la caveremo con poco in questa rassegna stampa, perché quello che succede è quello che sta succedendo da due mesi a questa parte. Cioè da quando per la prima volta il Presidente del Consiglio Conte ci aveva detto che ci sarebbe stato un decreto di maggio, anzi scusate, di aprile, e poi diventa di maggio. Beh, oggi le liti frenano il decreto, è il titolo, diciamo, molto fattuale del Corriere della Sera. Aiuti Italia aspetta, è il titolo meno fattuale ma altrettanto, diciamo, cronachistico della Repubblica. La cosa fondamentale è che il decreto doveva arrivare sabato mattina, poi doveva arrivare domenica, poi doveva arrivare lunedì, lo so bene perché noi la trasmissione l'avevamo lunedì, non è arrivato martedì, arriverà oggi. Beh, insomma, sul decreto vi dico, oggi ci dovrebbe essere il Consiglio dei Ministri che lo approva. Il decreto è, come direbbe, come si chiama? Questi sono riusciti a fare una cagata pazzesca, una cagata pazzesca, come direbbe Fantozzi, non vorrei essere considerato, come possiamo dire, un po' volgare, è una citazione letteraria, la mia, mettiamola così, perché nel frattempo tutti quanti le diverse lobbine, lobbette, interessi politici e economici sono intervenuti per fare quello che è successo sempre in tutti questi decreti con 55 miliardi, il doppio di una finanziaria, cioè le piccole marchette a quelli che contano. Sostanzialmente per voi che siete a casa questa roba non servirà a nulla. Abbiamo buttato nel cesso, nel cestino, nel gabinetto, abbiamo anche tirato, sapete quanto? 55 miliardi. Nel momento in cui avremo potuto aiutare l'Italia a riprendere, perché non è che riprendi dando la mancetta ai 100 euro, 200 euro, 300 euro, per far riprendere un paese devi rimetterlo nelle condizioni di poter correre. Invece noi sapete che abbiamo dato una spintettina così, abbiamo dato una spintina così a uno che deve fare di 10 chilometri. Eccoti la spintina, per un secondo vai avanti e poi sei crepato. Vi faccio degli esempi molto semplici. Oggi c'è un pezzo di Valentina Conte, molto interessante su Repubblica, su questa vicenda della cassa integrazione in deroga. La cassa integrazione in deroga andrà a finire a coloro che non hanno la cassa integrazione ordinaria, cioè quelle aziende con meno di 5 dipendenti, bar, ristoranti, quello che volete, tutte le piccole attività, studi professionali, dovrebbero avere questa cassa integrazione in deroga. Tutte le cassa integrazioni costano 14 miliardi. E questo vi dà il senso già che questa cosa qua non è che possa continuare in eterno. Deve continuare un mese, due mesi per tamponare la ferita. Bene, da due mesi a questa parte le cassa integrazione in deroga non sono arrivati i soldi a coloro che ne avevano diritto. Quindi serve a zero, perché non servirà a ridare loro un lavoro. Gli serve a tamponare la ferita. Ma se la ferita la tamponi quando è uscito tutto il sangue, ma che cacchio la tamponi a fare questa ferita? E oggi Valentina Conte ci spiega che ieri hanno fatto un lungo dibattito costruttivo, perché i dibattiti sono sempre costruttivi, per cercare di capire che cosa hanno sbagliato nella cassa in deroga, che esisteva prima del Jobs Act, che era gestita dalle regioni insieme ai sindacati, insieme all'Inps, insieme allo Stato centrale. Non ha funzionato, non è arrivato nulla, quindi tu aspetti due mesi per fare un decreto, dici avranno cambiato qualcosa per renderla più efficace. Niente. Quindi aspetteranno altri 20 giorni, un mese, due mesi, per avere in più, per avere anche la cassa integrazione in deroga per i mesi precedenti. Allora, quando tu prendi dei politici e dei tecnici che non sanno imparare dai loro errori appena fatti, vuol dire che se ne fottono! Se ne fottono! Vabbè. L'altra questione ridicola, e ne ho parlato bene del bonus del 110% sulle ristrutturazioni tedizie, ho sbagliato. Cancellato. Fraccaro, Fraccaro, il ministro che avevo detto avrebbe semplificato. Napippa non è riuscito a difendere nulla del suo progetto iniziale. È totalmente inutile. Servirà a qualche condominio. Addirittura adesso pretendono che ci sia un doppio salto di classe energetica. Fra un po', sai come ci fanno correre? Correte con le due braccia dietro, cechi, facendo parapà, 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 con le palline e poi se volete e se ci riuscite vi prendete il bonus da 110 euro. Grazie Fraccaro, buona idea, mal realizzata. Poi fra due anni quando vedremo che questa roba qui è servita per 2, 3, 4 miliardi ci diranno ah il bonus energetico si romperanno, si riempiranno la bocca. Così come è fatto lo capisce anche un bambino piccolo servirà a pochissima gente. Così come un bambino piccolo avrebbe capito che la cassa integrazione in deroga non sarebbe servita nulla. L'unica cosa buona, decente di questa manovra finanziaria da 55 miliardi, cioè il 10% pare che valga 4 miliardi, non più di quello, l'unica cosa che funziona là, grazie al cielo, bisogna essere onesti, è il fatto che hanno tolto l'IRAP in due commi. Due commi per togliere l'IRAP, saldo e conto del giugno 2019, ci sono due commi in cui si dice che quella roba lì è stata abolita. Ecco, allora quando voi vi rendete conto che per togliere l'IRAP e togliere un costo fiscale e quindi aiutare le imprese bastano due commi, capite che i 50 commi del bonus 110%, i 300 commi che abbiamo messo nei nostri articoli, servono a niente, perché per aiutare i cittadini italiani ci vuole soltanto buonsenso e bastano due commi, abolito, l'IRAP, saldo e a conto 2019. 8 paroline, come spiega il Sole 24 ore, per fare l'unica cosa che servirà manovra da 55 miliardi, quanto arriverà? 4 miliardi di IRAP per le imprese. Tutto il lesso sono minchiate, aiutini, 500 euro, 200 euro che non risolveranno, peraltro poco, un peccato perché questo ci dimostra. Beh, d'altronde sapete che cosa ha fatto il governo ora? Il governo ora, sapete che cosa ha fatto quel genio di Conte? Moriamo di fame, anzi io no, sono fortunato, la gente sta male, non riceve la cassa integrazione in deroga, abbiamo 16 task force, non abbiamo ricevuto i 600 euro perché qua, toc toc, un milione di persone ancora stanno aspettando i 600 euro, ho continue telefonate, mail di amici che dico che hanno ricevuto i 600 euro e sai che cosa hanno fatto questi geni? Hanno nominato 11 donne nelle task force di Colao, che già non si capisce a che cosa serve, e in quella tecnica di Borrelli. Voi mi dovete spiegare se in un paese normale è attività del Presidente del Consiglio andare a fare lo sponsor di un gruppo terroristico a Ciampino e di trovare 11 professioniste, sociologhe, filosofi che entrano dentro una task force che già di per sé non serve a un cavolo. Ma io lo dico, io vorrei essere donna per poter dire da donna che questi uomini che pensano di dare un contentino alle donne mettendo sedi, una professoressa, la dirigente, non servono a nulla. Qua a soffrire più di tutti saranno le donne lavoratrici e questi che cosa fanno? Prendono sei professioniste superfilosofe, supersociologhe, cioè della pippa mentale per pensare di risolvere i problemi alle donne che veramente in questo momento ce l'hanno. Quelle che stanno a casa e che devono sopportare i mariti, quelle che lavorano e che devono sopportare il fatto di avere magari dei figli che non vanno a scuola, quelle che semplicemente fanno le casalinghe che vengono considerate un nulla mentre sono l'architrave della casa. Però ci c'è le donne, cioè in queste inutili task force mettiamo le donne. Ce ne vorrebbe un accanto ad Arcuri perché oggi anzi diciamo che c'è una difesa di Mattia Feltri, ma l'universo mondo riconosce la cosa più banale del mondo e cioè che non ci sono le mascherine. Ormai lo dicono tutti, Corriere, Repubblica, lo capiscono tutti che del commissario continua a fare l'arrogantello e oggi ci spiega. Prima diceva che era colpa delle farmacie e adesso dice sono ferme nelle magazzini delle regioni. Adesso è colpa delle regioni. Vorrei spiegare una cosa che mi ha spiegato Arcuri che 55 milioni che sarebbero ferme nelle magazzini delle regioni di mascherine, sì e no, secondo i calcoli del Politecnico, servono per un giorno. Arcuri! 2 più 2, 5, 3 più 3, 7, 3 più 3, 10. Così Arcuri io e te possiamo andare d'accordo, no? Siamo tutti dell'idea che 55 milioni nelle magazzini delle regioni siano il problema. Ne consumiamo 60 milioni in un giorno, 60 milioni in un giorno. Toc toc! Arcuri! Vai! Vai! Il problema è che Arcuri se si andava via dal commissario straordinario per l'emergenza, straordinario capisco cosa, ritorna a fare il suo mestiere in Invitalia e io mi dico in Invitalia neanche ci rendiamo conto dei danni che può fare uno come Arcuri eppure... vabbè, vabbè, e questa è la vita. Soltanto Travaglio ormai riconosce grande capacità a questo governo, il modello del mondo, perché oggi scrive nel suo, perché bisogna sempre leggere la Pravda, dice tutti i paesi del mondo vanno per gradi e noi siamo quelli che abbiamo spiegato al mondo come farlo. Insomma, è veramente imbarazzante. Nel frattempo le ripartenze sono altrettanto imbarazzante. Bar e ristoranti potranno riaprire il 18 giugno, si potrà andare da una regione all'altro, scrive il messaggero, del primo gennaio. Il titolo più bello oggi lo fa il mattino, perché sintetizza tutto quello che penso io ed è fase caos. Non ci sono le mascherine, grazie Arcuri. Mancano i tamponi, grazie Arcuri. Mancano teste e applicazioni, grazie Arcuri. L'enigma sanificazioni, grazie Colao. Negozi e bar ancora in attesa di regole, grazie Conte. E anche se ci fossero le regole, e anche se ci fossero i 4 metri quadri, e anche se ci fossero i 2 metri, questi sono pazzi, perché a queste condizioni non apre manco Babbo Natale, perché i regali li va a prendere in Cina, piuttosto che stare nella Lapponia di questi pazzi. Io direi che per il momento è tutto, vi do appuntamento sul sito nicolaporro.it e vi auguro una buona giornata. Ciao!